A quanto pare siamo in diretta e mi auguro che le azioni necessarie, chiudiamo qui, bene, vediamo se c'è qualcuno, per adesso no. Oh, buonasera Enrico, ben trovato, si sente bene? Tutto ok, audio e video, perfetto, buonasera Daniela, Terry, grazie a tutti Buonasera Simona Buonasera Nicola, Elena e c'è anche Anna, grazie, grazie Anna Facciamo ancora un paio di minuti Grazie a tutti Buonasera Felicetta e Mirella Grazie a tutti Grazie a tutti Bene Grazie a tutti Ricordo per chi così incontrerà questo video magari attraverso altri canali che siamo su Focus 3.0, il mistero della vita, pagina di Facebook e che siamo ospiti di Enrico Ballantini all'interno di quella sezione che è stata voluta che è stata voluta fondata da Anna Tamburini Torre chiamata LUX Università della Conoscenza e ormai da qualche tempo andiamo avanti con queste lezioni mensili. Grazie a tutti Grazie a tutti Buonasera Teresa Grazie a tutti 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 lezione a due voci che conclude per il momento perché poi viene ripreso più volte nel corso degli anni successivi il tema della morale dell'uomo della morale ed è l'ultimo brano perché poi si inizia si entra dentro l'insegnamento filosofico vero e proprio e lì sarà un viaggio molto interessante per chi se la sentirà di proseguire in queste nostre in questo nostro percorso di lettura e di approfondimento quindi iniziamo pure questa lettura la morale ideale e inizia campis dicendo non è una scoperta sensazionale accorgersi che l'uomo concepisce la realtà unicamente in chiave umana della natura si vede il capolavoro ovvero della natura lui vede se stesso come il capolavoro del mondo in cui vive il sovrano vede se stesso come il sovrano del mondo in cui vive se ama gli animali è perché attribuisce ad essi caratteri umani se ammette l'esistenza su altri pianeti di forme di vita individualizzata la massima concessione concessione che è disposto a fare interno in tema di diversità da se stesso e nell'aspetto di quegli esseri sì in linea di massima è propenso ad ammettere altre civiltà planetarie più evolute della sua ma i figli di quelle civiltà sono dei se stessi ingigantiti per non parlare poi dell'aspetto mostruoso che invece attribuisce a chi immagina di avere una natura di forme da quella del genere umano genere di cui vede se stesso prototipo esemplare perfino dio è immaginato dall'uomo simile a sé nella migliore delle ipotesi è immaginato un buon uomo questo modo di concepire la realtà assume una natura così viscerale che raramente l'uomo riesce ad accettare ciò che si discosta dal suo modo di vedere il mondo non crediate che stia condannando questo fatto sto semplicemente rilevando rilevando cioè qualcosa che ha una ragione precisa fondata nell'ordine generale delle cose come ho avuto modo di dire anche ultimamente ma solo l'assoluto ha valore assoluto e se il riportare tutto in termini umani produce l'effetto di interessare e far vibrare l'uomo giunge il momento in cui l'uomo l'umano deve uscire fuori dalla propria crisalide dal proprio minuscolo mondo ed aprirsi all'immensità che l'attende allora tanto ci dà un'indicazione sul fatto di come noi interpretiamo la nostra vita cioè noi siamo al centro del mondo ognuno di noi in effetti si sente al centro del suo mondo circondato dal suo mondo circondato da persone che in qualche modo si riferiscono a lui o come amici o come parenti o come conoscenti o come umanità che si muove tutto intorno e noi siamo al centro di questo mondo ognuno al centro del proprio osserviamo tutto questo movimento tutta questa umanità siamo proprio i sovrani ognuno del proprio mondo specifico particolare personalissimo e naturalmente questo fa sì che come se noi ci chiudessimo dentro una forma pensiero che è quella costituita dalla nostra mente e leggessimo tutto quanto avviene intorno a noi sulla scorta della nostra capacità di lettura dei nostri limiti di lettura dice però campi se solo l'assoluto ha valore assoluto ovviamente noi sappiamo di essere essere relativi nel momento in cui diventiamo un pochino consapevoli di quel che siamo ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli e quindi essendo così piccoli siamo che sappiamo che siamo molto relativi che abbiamo poca conoscenza di quello che avviene e che traduciamo in esperienza personale tutto quello che avviene sapendo però che le cose sono molto più vaste di quello che noi pensiamo che sia. Allora Claudio prosegue e dice uscire fuori dal proprio mondo per l'uomo al massimo può significare avere un comportamento altruistico a questo vogliono ricondurre gli insegnamenti di altruismo delle guide spirituali dell'umanità non banneggiare aiutare amare i propri simili naturalmente per rendere accettabile dall'uomo un discorso che contrasta con il suo modo di concepire la realtà è necessario porlo in chiave egoistica ossia è necessario affermare che il comportamento altruista implicitamente implicitamente comporta un premio. L'adattamento della dottrina a se stessi avviene automaticamente per una sorta di compromesso ed è condizione essenziale all'accettazione della dottrina. A voi forse questa condizione può suonare poco morale ma se così è lo è perché avete posto attenzione ad una morale un tantino più avanzata. Una morale in cui i comportamenti altruistici non sono determinati da mire egoistiche ma sono la logica conseguenza di un modo di concepire la società che solo un'ideologia retrogada e crudele può affermare essere costituita da individui che non abbiano tutti gli stessi diritti doveri. Vi assicuro però che quello che a voi almeno concettualmente sembra un giusto modo di concepire l'altruismo ossia ritenendolo veramente tale quando prescinde da ogni forma di ricompensa per altri è ancora inconcepibile. L'ideale morale dell'uomo è ben lungi dall'essere superato. Guardate è molto importante mentre si ascolta Claudio che dà queste sforzate nella descrizione dell'umanità ricordare che non c'è una forma di giudizio in queste comunicazioni che Claudio fa. Non c'è una forma di giudizio perché quello che lui descrive è una condizione, uno stato di fatto, una condizione che l'uomo vive e che deve necessariamente attraversare dato un certo livello evolutivo che riguarda l'uomo moderno più o meno. Poi si parla di una fascia che comprende moltissime manifestazioni umane, ma in linea di massima possiamo dire che l'uomo è molto molto concentrato su se stesso e che un ideale morale dell'uomo è molto lontano dall'essere neanche superato, proprio incarnato in qualche modo. Ce l'abbiamo concettualmente, lo capiamo, noi che abbiamo la pretesa di essere particolari, noi che ci occupiamo di queste letture, però diciamo che stiamo ponendo attenzione ad alcune cose e questo fa sì che in qualche modo quando ragioniamo, almeno teoricamente, sulla morale, cerchiamo di vedere gli aspetti dell'altruismo, per esempio, come aspetti, che posso dire, slegati dalla ricerca di un premio in un qualche tipo di paradiso al momento che dovessimo lasciare il nostro corpo fisico. Vediamo l'altruismo solo come una manifestazione di una coscienza un pochino più evoluta, questa dal punto di vista, diciamo, della teoria, lo capiamo che è così. Quanto ad incarnarlo il passo è un altro, e ognuno di noi conosce il proprio limite, ed è bene che lo conosca senza per questo giudicarsi, ma semplicemente osservarsi in quella che è la realtà della sua espressione esistenziale. Tempes dice che se si passano in rassegna le varie morali per scoprire quelle più elevate ed ispirate, si osserva che esse sono ancora quelle delle antiche religioni, considerando incluse nei ceppi di origine le differenziazioni più recenti. Se l'esame dalle antiche religioni si sposta alle più recenti associazioni, congreghe, organizzazioni, aventi, intenti moralistici, si nota che il cambiamento è solo esteriore. Per esempio l'uomo, anziché concepito da Dio, può essere immaginato financo un'inseminazione degli extraterrestri, ma tutto questo non significa cambiamento della morale. Le espressioni più alte della morale sono ancora quelle tradizionali. Guardate bene, intendo dire che le concezioni ormai acquisite come scontate sono morali così umane che, se in tal modo fossero state concepite sin dall'origine, si direbbero morali concepite da uomini più che per gli uomini. Pare che nella scuola della vita il potenziale di istruzione dell'uomo, il fatto di morale, non conduca oltre un'istruzione media, almeno a livello generale, non v'è possibilità di istruzione superiore. Claudio. Anche recentissime organizzazioni a carattere mistico-filosofico insegnano una morale che nello spirito va poco oltre quello tradizionale. Ogni essere è concepito in chiave di avere. Avere degli attributi spirituali, come il materialista ambisce beni materiali, avere un'evoluzione spirituale che consenta un passo avanti nella gerarchia degli esseri, e per quanto concerne i rapporti con i propri simili, lavorare per la fratellanza degli uomini, per la loro spiritualizzazione, tutte cose incomiabili, se non fossero concepite in chiave di guadagno personale nell'evoluzione spirituale. Questo è un punto importante, cruciale, perché capita spesso, e noi caschiamo in questo tipo di tranello, che pensiamo cosa dovrei fare, come mi dovrei comportare per evolvere spiritualmente. Nel momento in cui oppongo questa questione, come faccio ad evolvere spiritualmente e quale comportamento devo avere, lì è già entrato in gioco quello che i maestri definiscono l'io, con le sue esigenze di espansione, anche nel mondo spirituale. Come vi abbiamo detto, l'uomo difficilmente recepisce ciò che si allontana dal suo intimo essere. Quando accetta una concezione, immediatamente cerca di adattarla a se stesso. Se abbraccia la causa del bene in senso morale, allora diventa un partigiano, fa del bene una parte contrapposta ad altre, cerca di fare proseliti, combatte o comunque avversa chi non la pensa come lui. Questo impegno di se stessi è preferibile alla bulia, al non mi interessa, in ogni campo, ma è sicuro indice che non si è superata la dimensione umana. Quindi ci sta dicendo Claudio che la dimensione umana prevede come espressione questo porsi sempre al centro di tutto quello che facciamo, di tutto quello che sperimentiamo e di non poter fare altrimenti, perché questo è il nostro percorso. Poi sappiamo noi, possiamo cercare di capire quanto effettivamente andiamo incontro agli altri perché è in qualche modo nostra natura o quanto invece siamo animati da precetti, da indicazioni, da dottrine, da qualche cosa che non è nostra natura ma che viene dall'esterno di noi. Prosegue Campis dicendo per superarla, per superare la condizione umana, è necessario porre attenzione ad una nuova concezione di se stessi e della realtà, ossia ad una nuova morale, quindi la morale intesa come una diversa concezione di se stessi e della realtà, ammesso che il termine morale sia ancora abbastanza indicativo per significare il raggiungimento di una nuova natura. Se non si pone attenzione ad una verità, essa non entra mai a far parte dell'intimo essere. È ora il momento di sottrarsi all'imperiosa tendenza di concepire la realtà unicamente in chiave umana, che è come dire, devo cominciare a considerare che le cose non stiano come fino adesso io ho pensato che fossero, che il mondo non è quello che si presenta sotto i miei occhi e del quale io ho un'opinione. Non è un passo facile perché si tratta di rimettere in discussione la nostra stessa esperienza esistenziale. La stessa scienza, dice Campis, la stessa scienza vostra, particolarmente la fisica per quanto attiene al mondo delle particelle subatomiche, avverte la necessità di superare certi postulati, certi schemi di pensiero, certi modelli ritenuti invalicabili. Questa necessità ha fatto affermare a qualcuno che non è possibile dare un senso alla realtà sulla base delle sole ricerche scientifiche. Quanto più ampiamente e dettagliatamente la si osserva, tanto più essa appare priva di significato. Lo spettacolo che si svolge davanti agli occhi, dinanzi agli occhi dello scienziato, acquista un senso per il solo spirito che lo osserva. La conclusione di questa affermazione è verissima. Tuttavia, ciò che sembra non avere senso ha proprio lo scopo di condurre a quella conclusione soggettiva. E se la conclusione appare troppo fideistica, aggiungo, prescindiamo pure da essa, ma allora, in termini razionali, non si può considerare privo di significato ciò che non si riesce a capire. Qui fa capolino il Kempis, il filosofo. Se qualche cosa non capisco, questo non vuol dire che quel qualche cosa che non capisco non esista, o che sia privo di significato. Lo è solo per me perché io non lo capisco. È fuori dalla portata della mia mente, almeno in questo momento. Ma questo non significa che ciò che è fuori dalla portata della mia mente non esista. Allora, questo è presuntuoso, per non dire strumentale, al fine di ricondurre la scienza dalla parte del materialismo dopo che aveva dato evidenti segni di volersene staccare. Questo è un po' quello che fa un certo tipo di scienza, di cultura scientifica. Io vorrei chiarire bene che cosa intendo se si prendono dieci carte da gioco. Guardate questo esempio. Se si prendono dieci carte da gioco di un seme qualsiasi e dopo di averle ordinate dall'uno al dieci, si mischiano e si scoprano, nessuno si aspetterà di trovarle ordinate nel modo iniziale. Se ancora si mischiano e di nuovo si scoprono, ben difficilmente saranno in uno dei due ordini precedenti. Questo fatto non autorizza ad affermare che, in natura, l'ordine tende a diventare disordio. Semmai si potrà dire più genericamente che uno stato tende a trasformarsi in uno stato diverso. L'ordine è la disposizione secondo un certo criterio. Il criterio appartiene alla dimensione umana e ha un suo innegabile valore, ma è un valore relativo, un valore che serve per capire solo fino a un certo punto. Per andare oltre è necessario trovare altri termini di raffronto. Vedete, ci sta dicendo Kentis, che noi stabiliamo dei parametri, dei punti di riferimento per interpretare la realtà in cui noi ci troviamo. Quello verso cui i maestri cercano di orientarci è in qualche modo aprire la mente a cose completamente nuove, completamente diverse. Lo fanno utilizzando una logica, una logica anche molto immediata, perché questo esempio delle carte è molto semplice. che loro dicono il parametro dell'uomo è che le carte sono ordinate dall'uno al dieci. Quando sono così sono in ordine. Ma è l'uomo che dice che quando sono così sono in ordine. In realtà le carte possono avere altri ordini. Le mescolo, le guardo e hanno un ordine diverso. E ogni volta che le mescolo possono avere un ordine diverso. Io devo, se voglio capire qualche cosa di più degli ordini diversi che posso incontrare nella mia esistenza, devo accettare il fatto che l'ordine mio di riferimento è solo uno degli ordini possibili. Il nostro modo di vivere è un modo di vivere che si basa su parametri che noi umani abbiamo stabilito. Abbiamo stabiliti perché abbiamo dotazione strumentale che sono i nostri cinque sensi e poi una mente che funziona in un certo modo che ci portano a interpretare la realtà in quel modo e a stabilire dei parametri per interpretarla e per descriverla. Ma quelli sono i parametri stabiliti da noi. Quindi sono come un confine, un limite, una lente di un certo tipo con il quale osserviamo la realtà e utilizzando sempre quella lente la realtà ci sembrerà sempre uguale a se stessa. Se noi potessimo cambiare lente, la realtà apparirebbe diversa da come appare. E se noi non avessimo i limiti, per esempio, percettivi che abbiamo, noi vedremmo una realtà completamente diversa da quella che vediamo intorno a noi. Io me ne accorgo di questo tutte le volte che un raggio di sole la mattina entra dentro la camera da letto mentre io scuoto le lenzuola o la coperta. Quando io faccio questo e non c'è il raggio di sole, io semplicemente sbatacchio un po' la roba, riassetto il letto, ma quando entra il raggio di sole, io vedo attraverso questo raggio di sole che entra nella camera, vedo un pulviscolo fittissimo di particelle che sono invisibili normalmente. Ma che ci sono? Allora, nella realtà, nella mia realtà quotidiana di sempre, questo pulviscolo lo conosco solo teoricamente, ma non ne faccio esperienza. Quando c'è qualche cosa che illumina in un certo modo, il pulviscolo appare. Non è che c'è in quel momento e prima del raggio di sole non c'era. C'è sempre. Ma io ho dei limiti percettivi. Ho dei limiti che mi permettono di vedere la realtà fino a un certo punto. Poi ho bisogno che intervengano altre cose per farmi vedere di più aspetti di quella realtà. E questo vale, per esempio, sto parlando di pulviscolo, che è una cosa che rientra nella capacità dei miei occhi, con l'aiuto del raggio di sole, di vedere particelle di una certa dimensione. Ma tutte le altre particelle che ci sono, che i miei occhi non possono cogliere, e tutte le onde elettromagnetiche, con tutti questi cellulari, reti di vario tipo, internet, parabole dovunque che rilanciano segnali. Se ognuna di queste avesse un colore, noi vedremmo, potendo vedere le particelle così sottili, vedremmo un mondo attraversato da fasci di luce colorate, incredibili, altro che quello che si vede in Lapponia, con quegli effetti meravigliosi che si vedono nel cielo. Vedremmo delle cose straordinarie. Non le possiamo vedere, perché noi abbiamo un limite percettivo. E sto parlando solo del limite percettivo dei sensi fisici, perché abbiamo un limite anche valutativo, un limite interpretativo, mentalmente interpretativo. Quindi noi ci chiudiamo dentro i nostri parametri, che sono del tutto umani, e limitiamo la nostra esperienza a questo. E pensiamo che le cose stiano così. E questo è un auto-inganno, che facciamo noi stessi, non potendo fare diversamente da così, perché gli strumenti che abbiamo sono questi. Non è che questo sia sbagliato, è solo la descrizione di quello che è per ciò che siamo noi in questo momento, ciò che ci tocca sperimentare per come siamo fatti. Allora, dice Campis alla fine del suo intervento, l'ordine è la disposizione secondo un certo criterio. Il nostro ordine, la nostra realtà, è la disposizione secondo un certo criterio. Per esempio, le ore per noi vanno dall'ora zero e un minuto fino alla mezzanotte. Questo è un criterio. Il criterio appartiene alla dimensione umana, ha un suo innegabile valore, dice Campis, ma è un valore relativo. Un valore che serve per capire solo fino a un certo punto. E quello che vi proponiamo noi, i maestri, è di capire un po' di più, di andare oltre quel certo punto che è descritto dagli strumenti che normalmente utilizzate, gli strumenti mentali, i percettivi e via dicendo. Per andare oltre è necessario, dice Campis, trovare altri termini di raffronto. Questo vale sia per la percezione fisica che per la morale, che per l'altruismo come lo intendiamo noi. Vale ad ogni livello. Noi non vogliamo fare di voi degli esseri che non vivono secondo la loro realtà. No? Non ci vogliono trasformare in individui psicotici che vedono le cose strane. No. Che vivono in modo difforme dalla loro natura e dal loro sentire. Semplicemente vogliamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la dimensione umana, la condizione umana, la condizione umana, la nostra condizione, non può essere assunta a chiave di lettura del cosmo intero. È la condizione umana. Essendo la condizione umana, riguarda gli uomini e basta. E noi abbiamo la tendenza invece a tradurre tutto attraverso le lenti della condizione umana. Prendiamo in termini di morale che esistono altre morali ben più avanzate della donna. Prendiamo in esame un precetto classico che dice Matteo 6,24. Quando tu fai l'elemosina, dice Matteo, non farla strombazzando dinanzi a te nelle sinagoge e per le strade, come fanno gli ipocriti per avere gloria agli occhi dell'uomo. In verità, ti dico che quella è la loro ricompensa. Tu invece, quando fai l'elemosina, ignori la tua sinistra ciò che fa la destra, affinché la tua elemosina resti nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Si afferma, cioè, che lo scopo di fare l'elemosina non è quello di mettersi in evidenza agli occhi degli uomini, di avere una sorta di riconoscimento, di ricompensa umana. E questo è un primo ideale morale. Tuttavia, il versetto promette un altro genere di ricompensa, quella spirituale. perciò la questione è ancora nei termini do ma ricevo. Un modo di purificare questo concetto o il concetto in generale dell'aiutare è quello di accettarlo prescindendo da ogni forma di ricompensa personale. Prescindendo da ogni forma di ricompensa personale. L'aiutare per la solidarietà che gli uomini debbono avere fra di loro a fondamento della quale sta per chi non creda ad altro la comune condizione umana. La comune condizione umana si basa sul concetto di solidarietà. Invece l'uomo per rendere meno rarefatto questo concetto per farlo più a sé assimilabile vi apporta dei correttivi come per esempio l'effettiva necessità d'aiuto da parte di chi si vuole beneficare oppure la certezza che l'aiuto sarà efficace o comunque recepito. Io ti aiuto ma innanzitutto voglio essere sicuro che tu hai bisogno di aiuto e poi voglio essere sicuro che il mio aiuto ti arrivi che sia servito che sia utile questo serve a me per riuscire ad aiutare ma il concetto nella sua originaria purezza significa aiutare anche quando si sa che l'aiuto non serve. E noi raramente facciamo questo a voi forse tutto questo può sembrare ridurre il precetto a semplice e freddo dovere proprio può sembrare un togliere l'amore al prossimo dal concetto di aiutare amore che è ispiratore di ogni forma di vero altruismo vi assicuro che non è così in questa concezione dell'aiutare l'amore assume forma impersonale amore per il tutto amore privo di passionalità il concetto del vero amore e qui sarebbe possiamo fare ma insomma sarebbe molto bello c'è una bellissima una bellissima lettura del vero amore su cosa sia il vero amore perciò un passo indietro rispetto alla passionalità che mettiamo e l'aiutare per l'aiutare in se stesso senza attendersi che l'aiuto serva che la persona sia effettivamente stato di bisogno che tutte quelle cose che noi poniamo come stimoli al nostro attivarsi prosegue Kempis dicendo un tale sentimento quello del vero amore fluisce quando si è compresa la vita la propria unicità e la natura soggettiva della propria esistenza guardate per chi ha studiato e conosce l'insegnamento filosofico di Nestri che ha fatto tutto il percorso sa che in queste due righe è contenuto un significato gigantesco sono densissime potremmo perdere perdere utilizzare giornate intera su queste due righe un tale sentimento cioè il vero amore quello impersonale l'amore per tutti l'amore diverso da quello che conosciamo noi l'amore passionale il vero amore fluisce crevato si muove per conto suo fluisce quando si è compresa la vita quindi comprendere la vita significa essere arrivati al nucleo di quello che significa la nostra esistenza si è compresa la propria unicità che significa che siamo esseri unici ognuno di noi è un essere unico ha compreso la propria unicità proprio nei particolari il proprio essere unico e ha compreso la natura soggettiva della propria esistenza la natura soggettiva della propria esistenza l'abbiamo già in qualche modo incontrata nelle letture precedenti e via via andremo ad approfondire sempre di più questo tema qua la natura soggettiva della propria esistenza significa che un'esistenza come la mia la tua la sua non ce n'è un'altra non è simile a quella degli altri e che l'esperienza che deriva da questa natura soggettiva è assolutamente personale non trasferibile su altri e quindi i parametri della lettura della vita che facciamo sono assolutamente unici e diversi da quello di tutti gli altri anche se sembra vita condivisa in realtà non è proprio così ma qui si va in una cosa un po' più difficile non a casa infatti l'uomo dice Kempis scopre la soggettività di ciascuna esistenza individuale a mano a mano che è capace di sottrarsi all'imperioso modo di concepire la realtà unicamente in chiave umana cioè allorché è più pronto spiritualmente allora la spiritualità è qualche cosa forse di diverso da quella che ci siamo immaginati frequentando le chiese le religioni le culture ma la spiritualità è qualche cosa che ha a che fare con l'aprirsi a ipotesi diverse sull'esistenza moltissimi sono gli esseri questa molteplicità tuttavia non pregiudica l'unicità ciascun essere è diverso unico già questa riflessione dovrebbe far pensare al fatto che l'uomo in fondo è solo se ognuno di noi crea attraverso la propria visione del mondo i parametri di cui si dota i confini che pone i limiti espressivi che ha e crea una sua realtà un suo mondo quel tipo di mondo dove lui vive vive solo lui e tutti gli altri hanno i loro parametri i loro confini i loro limiti espressivi diversi e forse anche non comunicabili gli uni gli altri una solitudine non intesa nel senso umano ma in altri sensi tra i quali per esempio nel senso che l'uomo è solo di fronte alla realtà solo perché solo lui può comprenderla essendo la comprensione del reale un fatto squisitamente individuale allora solo ognuno di noi può comprendere la realtà e lo può fare nel suo modo individuale non c'è un modo uguale per tutti ma ognuno ha il suo modo perché ognuno è unico è diverso ha delle caratteristiche simili a quelle degli altri una dotazione di strumenti simili a quella degli altri ma per tutto il resto nel suo viaggio è un viaggio in solitaria è un viaggio esclusivo dunque non solitudine come mancanza di compagnia l'uomo anche il più accompagnato è sempre solo gli esseri che lo circondano per lui diventano suo prossimo attenzione gli uomini che lo circondano per lui diventano suo prossimo solo se egli è capace di sentirli così cioè se io guardo intorno a me gli uomini e li sento li vivo come il mio prossimo allora quegli uomini sono il mio prossimo solo se egli dà loro vita e sentimento egli dà a loro vita e sentimento altrimenti sono degli oggetti sono delle immagini sono qualche cosa che si muove intorno a me a cui io non faccio caso non presto attenzione non li considero perché sono tutto immerso nel mio sogno sogno unico irripetibile sempre il mio ma questo sogno può essere popolato di creature se io do loro vita e sentimento attraverso il mio sentimento e la mia vita i concetti delle varianti e della non contemporanea percezione di una situazione nel mondo della percezione da parte di sentire di grado diverso non sono concetti originali perché fanno dell'uomo un solitario qui abbiamo citato cose che riguardano un insegnamento filosofico che abbiamo cominciato ad affrontare nel primo volume dai mondi invisibili e sarà bene che durante i prossimi mesi in cui in estate non ci sentiremo sarà bene che torniate a rileggere a riascoltare quelle lezioni a rileggerle perché ci serviranno per proseguire nella parte filosofica quindi abbiamo parlato di varianti della non contemporanea percezione di una situazione del mondo della percezione da parte di sentire di gradi diversi al di là della verità di questi concetti l'uomo è solo perché solo lui può dare vita e sentimento e calore umano al mondo di immagini che lo circondano cioè un mondo di immagini che mi circonda e solo io posso dargli quel calore che lo fa diventare amabile pieno di rapporti di contatti di piacevolezza ecco che cosa significa che l'amore è premio di chi ama che una situazione del mondo degli accadimenti sia percepita simultaneamente da tutti i protagonisti non annulla il fatto che ciascuno di essi la percepisce diversamente isolatamente solitariamente questo stato di cose intuito dall'idealismo soggettivo ha lo scopo di realizzare la comunione degli esseri solo là dove essa è creazione e non distruzione cioè nel mondo del sentire nel mondo del sentire questo stato di cose realizza la comunione degli esseri attraverso dei processi che spiegheremo e affronteremo nella parte filosofica di questo volume nel mondo della percezione l'uomo credendo di poter influire arbitrariamente nella vita dei suoi simili attraverso a molte incarnazioni e moltissime esperienze acquista rispetto e senso di responsabilità nei loro confronti poi scopre che al di là dell'apparenza è solo e nonostante ciò conserva intatto il senso del suo dovere quando ha capito che le proprie limitazioni rendono divisi diversi soli e ciò nonostante ama il tutto di un amore impersonale e privo di passionalità allora trascende la condizione umana non più a lui necessaria e vive unicamente della comunione dei santi e qui dice Kentis ascoltate reverenti quando le guide del cerchio dicevano ascoltate reverenti le poche volte che è accaduto si manifestava una voce questa voce incredibile dovreste andare proprio a sentirla sul sito cerchiofirenza 77.org perché è una voce non voce è una voce del cosmo non so come dire comunque dice ascoltate reverenti e qui c'è uno dei brani più famosi nel cerchio Firenze 77 che inizia dicendo tu avrai capito la vita e fa una serie di affermazioni ognuna di queste affermazioni è un viaggio nell'infinito ascoltiamolo lo leggiamo insieme per concludere questa nostra lettura perciò tu avrai capito la vita non quando tu farai il tuo dovere in mezzo all'uomo ma quando lo farai nella solitudine non quando pur raggiunta la notorietà potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini ma quando l'avrai e nessuno lo saprà neppure te stesso non quando tu farai il bene e ne vedrai gli effetti ma quando lo farai e non ti interesserà avere gratitudine né conoscere l'esito del tuo operato non quando tu potrai aiutare efficacemente e disinteressatamente ma quando aiuterai pur sapendo che il tuo aiuto a nessuno serve neppure a te stesso non quando tu ti sentirai responsabile di tutto ciò che fanno i tuoi simili ma quando conserverai intatto il senso della tua responsabilità pur sapendo d'essere l'unico uomo al mondo non quando tu avrai compreso che tutti gli esseri hanno gli stessi tuoi diritti ma quando tratterai l'essere più umile della terra come se fosse colui che ha nelle sue mani le tue sorti non quando tu amerai i tuoi simili ma quando tu stesso sarai i tuoi simili e l'amore bene qui ci fermiamo può darsi che la prossima volta che ci troviamo con queste dirette ci soffermiamo a dire qualcosa su queste bellissime frasi di questa entità che abbiamo chiamato entità X sapendo chi sia ma altissima levatura spirituale che aveva percipita dai presenti ci salutiamo con queste è previsto è previsto che la lux credo che prosegui anche in luglio ma ho una agenda impossibile in luglio quindi per quello che mi riguarda questa è l'ultima lettura prima della lunga estate e quindi credo che ci ritroveremo dopo l'estate secondo il calendario che verrà stabilito da Anna Tamborino Torre credo credo fine settembre o inizio ottobre credo insomma sarete sicuramente avvisati di questo vi ringrazio di essere stati con me questa sera in mia compagnia mi permettete di immergermi in questa bellezza insieme a voi e questo per me è bellissimo e vi saluto e vi auguro di passare delle belle serene giornate ricordando che si può amare in una maniera diversa e vi abbraccio tutti e a presto